Un sistema di videosorveglianza puro lo definisce il sindaco di Corato, 36 telecamere in tutto, piazzate nei punti strategici del centro e della periferia, non per motivi di viabilità, solo ed esclusivamente di sicurezza. Garanzia per i cittadini, monito per chi delinque o per i bulli, come una decina di ragazzini che alcune sere fa volevano divertirsi ma non mettendo l'impianto antincendio del teatro comunale. Non ci sono riusciti, per fortuna, ma le immagini sono un deterrente per il futuro. I video di alta qualità potranno essere utili in altri casi, come nell'episodio dell'aggressione subita nei giorni scorsi da un immigrato apparentemente senza motivo. È un sistema misto tra telecamere fisse e DOM, quelle quindi che ruotano e in remoto si possono anche comandare e questo ovviamente deve assicurare, perché è la finalità di un progetto acquisito negli anni passati dalla precedente amministrazione Perrone che è stata completata l'installazione in questi ultimi mesi ed è stato collaudato. Anche è stata fatta la formazione del personale. Le immagini rimarranno in archivio per sette giorni a disposizione delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Un messaggio rassicurante ma anche di deterrenza. Questo è soprattutto a quanti pensano di fare una bravata o pensano di fare un atto così per sorridere a modo loro o di dimostrare qualcosa a qualcuno e stessero attenti perché c'è qualcuno che li riprende.